E adesso vi parliamo di Uomini e Donne con Veronica Burchielli e Alessandro Zarino. Insomma i due extronisti che hanno lasciato ieri, il programma di Uomini e Donne. Ovviamente abbiamo visto che ieri è stata oggettivamente una puntata molto complicata. Nel senso, che a tenere banco, sono state le parole dure di Tina Cipollari che ovviamente qui non riscriveremo. Ma insomma la consigliera di Uomini e Donne ha detto chiaramente che aveva intenzione di tirarle i capelli. Mentre Veronica Burchielli ha reagito con un vaffa e con il fatto che avrebbe nel caso reagito. Per il resto anche il web ho visto in particolare Twitter essere molto dalla parte di Tina Cipollari. Sono sincera? Io sono sempre in controcorrente temo. Nel senso, che ho molti dubbi sul reale interesse di Uomini e Donne di Veronica per Alessandro. Matina Cipollari secondo me con quelle parole è passato dalla ragione al torto. Veronica Burchielli e Alessandro Zarino a telecamere di Uomini e Donne spente. Ma quello che è importante, è sapere come sono andate le cose fra Veronica Burchielli e Alessandro Zarino dopo la fine della puntata di Uomini e Donne. Intanto c'è un video in esclusiva di Witty TV, che ci mostra Alessandro e Veronica molto carini insieme. Ossia si vede chiaramente che sono molto imbarazzati. Alessandro Zarino, bacia Veronica Burchielli in studio. Clicca sull'immagine per vedere l'intervista esclusiva da Witty TV. E dopo ancora abbiamo notizie che Alessandro abbia portato Veronica nuovamente a Napoli. Questa volta senza le telecamere. E pare che comunque abbiano passato tutta la settimana insieme. Quindi a quanto pare dopo la fine delle riprese, pare proprio che le cose fra Veronica e Alessandro siano andate molto bene. Siete felici per loro. Oppure avete dei dubbi. E se avete dei dubbi su chi? Avete dei dubbi su Veronica Burchielli. Su Alessandro. Su entrambi. Puntata bella tosta quella di ieri. Non credete. In ogni modo verso le 15 di oggi inizia una nuova registrazione del trono classico. Dovrebbe essere la puntata prescelta di Giulio Raselli ed è previsto anche il ritorno di Veronica e Alessandro in studio, che ci racconteranno ovviamente come è andata realmente a finire.